Una commissione parlamentare turca ha avviato un dibattito su un nuovo disegno di legge per gestire gli alti numeri di cani landaggi nel paese. Il testo, arrivato in Parlamento lo scorso venerdì e presentato dal partito del presidente turco Erdogan, prevede la soppressione solo di esemplari aggressivi, pericolosi e affetti da malattie come la rabbia. Gli altri verranno castrati e sterilizzati e vivranno all'interno di strutture. Attivisti e animalisti sono scesi in piazza chiedendo al governo di Ancara di rivedere il disegno di legge, temendo un massacro di animali.